E' parte regolare questa finale Junior Man, americana tremendamente il relay for Junior Man Ed è Colombia, Francia, Czech Republic, Francia all'interno per la terza posizione Colombia, and last lap, one lap to go for Colombia E poi Italia, Italia inizia questa posizione, Colombia, Italia, si legge bene in curva l'altrino italiano Si va a forza da giù, ma è Colombia Grazie